Le sorprese ci sono state e come. Ci si attendeva una vittoria dell'Iscente Firetto al primo turno e un buon piazzamento di Zambuto e Miciche. Così non è stato, quest'ultimo già dalle prime sezioni scrutinate si è portato in avanti, sfiorando il 40%, poi arretrando un po' ma rimanendo il più votato con una consistente mole di preferenze. PD e Movimento 5 Stelle hanno mostrato debolezza, del resto il primo non si è neanche esposto con il proprio simbolo, i secondi evidenziano scarso radicamento sul territorio, nonostante gli sforzi della volenterosa Marcella Carlisi. E forse anche scontano l'imposizione di una permanenza al governo del paese non gradita a molti dopo il voto nazionale espresso. E sempre a sinistra Angela Galvano con 100 passi per la Sicilia arriva al 3,51%. Un discorso a parte va fatto per Daniela Catalano, candidato della Lega e Fratelli d'Italia, che ha riportato una bella affermazione personale avendo un numero di voti andato al di là delle liste. Marco Zambuto ha concentrato il voto del centrodestra non in maniera compatta, ricordiamo la spaccatura in Forza Italia, una buona affermazione che non è bastata a portarlo almeno al ballottaggio. Fin qui ciò che è emerso dalle urne con un plotone di candidati al Consiglio Comunale e con soli 24 scranni disponibili. Da oggi si apre una nuova fase e se la campagna elettorale trascorsa si è caratterizzata per deprecabili veleni, i giorni che verranno non lo saranno da meno. Adesso accordi, impegni, scambi, numeri e certamente anche qualche promessa prenderanno il sopravvento su progetti ed idee. Sarà lotta all'ultima preferenza, sarà ancora il momento di gloria per elettori e candidati cercati e osseguati per il loro prezioso carico di voti, ma sulle eventuali alleanze potrebbe anche pesare l'imminente rimpasto annunciato da Musumeci. Noi continueremo a seguire la vincente partita e che vinca il migliore.